Mi chiamo Enrico, Enrico Fini, sono di Urbino, ho 32 anni e lavoro come impiegato presso una cooperativa sociale che si trova qua nel nostro territorio. La ricerca della casa è partita attraverso internet e questa ricerca mi ha portato a trovare vari annunci tra i quali una casa che era in gestione dell'agenzia di Alberto, il quale sin dall'inizio è stato gentilissimo, il giorno che mi sono presentato per chiedere informazioni riguardo all'appartamento è stato subito molto chiaro, cristallino e nel giro di circa una settimana mi aveva già portato a far vedere l'appartamento e mi aveva dato praticamente quasi tutte le informazioni che c'erano da sapere a riguardo. Premettendo, per essere sincero, che è la mia prima esperienza nell'acquisto di un immobile, Alberto e la sua agenzia e il suo staff sono stati tutti sempre corretti e cristallini nei miei confronti. Avere un'agenzia con qualcuno che ti dà una mano, che aiuta, anche con persone come me che sono inesperte nel campo è una cosa molto importante, quindi consiglio assolutamente l'agenzia Real Estate Gambedotti.